Terza corsa del convegno premio Ortigia, doppio chilometro riservato ai tre anni, Royal Caff all'uno, al due Ricciola, Get al tre, Rogito D'Azzurra, al numero quattro Roger Reel, al numero cinque Ritzby, al sei Riccardo Zamora, al numero sette Robin Hood OM. Macchina che va via, di slancio c'è Rogito D'Azzurra che assume l'iniziativa, allargo Riccardo Zamora, Rogito Riccardo Zamora che fa la partenza veloce sulla prima curva e Rogito in vantaggio, Riccardo Zamora insiste su Rogito D'Azzurra ed è proprio Riccardo Zamora che passa su Rogito, quindi Riccardo Zamora in avanti, Rogito D'Azzurra in seconda posizione, poi c'è ancora il numero quattro di Roger Reel, quindi il numero uno di Royal Caff, Riccardo Zamora che controlla la situazione in avanti, quindi Riccardo Zamora in frenata, primi quattrocento metri con Riccardo Zamora, poi il numero tre di Rogito D'Azzurra, ancora il numero quattro di Roger Reel, dalle retrovie c'è lo scatto di Ritzby, l'errore di Ricciola Jet, quindi Ritzby che va un po' a fare pressing esterno, giustamente a Riccardo Zamora, Rogito D'Azzurra che segue, poi Roger Reel, ancora Robin Hood OM. In avanti Riccardo Zamora, Ritzby che insiste a largo, quindi Ritzby che comunque fa pressing esterno a Riccardo Zamora, Rogito D'Azzurra che segue, poi c'è Robin Hood OM, quindi il numero tre di Rogito D'Azzurra che segue, Ritzby che insiste a largo di Riccardo Zamora, che replica in maniera piuttosto incisiva, Robin Hood che segue il numero cinque, compagno di colore di Ritzby che si trova a largo di Riccardo Zamora, poi Rogito D'Azzurra, ancora Roger Reel e poi Royal Caff. In avanti Riccardo Zamora, Riccardo Zamora, ancora Ritzby, a largo c'è ancora il numero sette di Robin Hood OM, quindi Riccardo Zamora e Ritzby alle prese. Riccardo Zamora che comunque continua in perfetta accelerazione, poi c'è ancora Rogito che segue, Ritzby a largo, poi il numero sette di Robin Hood OM, in avanti è Riccardo Zamora, Robin Hood che interviene a largo, quindi Robin Hood a largo in terza ruota, Rogito D'Azzurra che segue, Riccardo Zamora, Ritzby, ancora il numero sette di Robin Hood OM, Riccardo Zamora insiste a largo il cinque di Ritzby, Rogito D'Azzurra pronto a sparare via, ma non trova il varco, quindi Riccardo Zamora, ancora Ritzby, poi Rogito D'Azzurra, Cavalli che entra in retta d'arrivo, Rogito D'Azzurra lungo i birilli, ma il sette di Robin Hood OM, Riccardo Zamora, Riccardo Zamora che nel tratto conclusivo riesce a trovare lo spunto vincente, secondo è il numero tre di Rogito D'Azzurra. Quindi sei, tre, sette, l'arrivo ufficioso di questa corsa, vittoria per Riccardo Zamora. Grazie.